C'è la richiesta di un sopralluogo nella sede di IMSS Servizi all'Aquila, al centro di una lettera aperta inviata dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei sindacati Wilcom, UGL Telecomunicazioni, SLCCGL e Fistel CISL, e indirizzata all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASL dell'Aquila e al dirigente sanitario dell'Unità Operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. I rappresentanti sindacali nel dettaglio chiedono che siano valutati i luoghi di lavoro dedicati agli operatori di contact center multicanale di IMSS Servizi all'interno della sede provinciale IMSS dell'Aquila. In una delle sale in particolare, a quanto riportano i sindacati, ci sarebbe un numero eccessivo di iscrivanie, nonostante IMSS Servizi abbia dichiarato che non vi lavorino più di sei persone. Oltre all'adeguatezza degli spazi e del luogo di lavoro, le parti sociali chiedono anche controlli sull'idoneità degli strumenti di lavoro forniti agli operatori. Strumenti che, spiegano i sindacati, non sarebbero conformi a quanto messo nero su bianco dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.